Quest'idea è invece di avere dei posti in cui si gioca insieme e quindi insieme si imparano anche delle regole del gioco. Le regole del gioco. In realtà quello che hai saltato negli ultimi dieci anni sono tutte le regole del gioco, perché da quanto capitolo del libro noi siamo di fronte ad un'economia che è diventata un po' l'economia del casino, cioè l'economia in cui hai perso il contatto con le cose, con il tavolo, con io che so fare il tavolo, con il mio papo che mi ha insegnato a fare il tavolo, e siamo diventati un'economia che non ha più regole del gioco, anzi le regole del gioco sono quelle che sembrano farsi di giorno in giorno. Allora questa idea di un'economia che sia sostanzialmente l'economia del casino è una cosa che ritorna preoccupante, perché noi rischiamo di essere le palline di questo casino, noi rischiamo di essere le palline di questa ruletta, che è un anuletto, veramente non ci sia in questo caso, perché ogni volta che la pallina gira ci domandiamo qual è subito ci perde. Dall'altra parte è anche vero che se non si ritrovano le regole del gioco il gioco diventa sempre pericolosissimo. Allora questo fatto del consiglio di ritrovare le regole, mi sembra anche pericolosissimo. Cioè bisogna ritrovare le regole del gioco. Il loro problema è che il gioco è diventato talmente grande che uno si domanda chi è che deve mettere le regole. Perché è diventato un gioco talmente globale che uno dice, beh in questo globo qua chi è che riesce a mettersi da fuori. La citazione è sempre quella, cioè alla fine della guerra, almeno ci sono trovati tutti, ci sono messi lì, la famosa storia di Bretton Woods, e a Bretton Woods hanno fatto le regole che sono nel piano di mare e hanno tenuto bocca per trent'anni. Allora la domanda è questa. Io ho l'impressione che ovviamente siamo arrivati nella fase in cui bisogna fermarsi un attimo, scendere dall'autobus in corsa. L'unico problema è che l'autobus in corsa è il mondo in cui noi ci siamo. La sfiducia che ormai tutti hanno in tutto è perché hai l'impressione che l'autobus sia in corsa contro il muro e non riusciamo più a seguire. Però questo mi pare veramente molto interessante. mi pare che ci sia una voglia, un bisogno da parte di tutti di fermarsi in un attimo, capire dove stiamo andando, capire quali sono le regole che si stanno giocando. Anche perché la gran parte delle persone, quelli che con fatica mettono via un po' di risparmi, quelli che hanno una casa, vedono questa economia, questa economia di carta e non capisci, continua a non capire. Non capisci chi è che fa le regole, non capisci chi è che sta giocando, non capisci come fermarti, non capisci neanche come si possa fare. Allora, uno, io ho l'impressione che sarebbe importante tornare a parlare di economia delle cose vere, di economia dei tavoli, di economia di coloro che sanno e di coloro che non sanno. In questo la scuola è un pezzo fondamentale. Mentre generalmente la scuola si è stata tenuta fuori dalla economia. Adesso bisogna tornare a pensare che la scuola è il posto in cui la gente deve tornare a imparare a fare le robe. Imparare a fare le robe. Imparare che le cose si fanno anche con fatica e che alla fine il modo con cui si imparano le cose è fondamentale con le cose. Questo si intreccia con tutta la storia digitale che introduce una dimensione in più. Più guardiamo i nostri ragazzi, i nostri figli e più abbiamo l'impressione che loro parlano una lingua diversa. Tutte volte che ho sentito i miei figli parlare, parlare di internet e di intorni, è chiarissimo che stanno parlando di un altro mondo. Allora anche questo è un'altra cosa da imparare. Bisogna imparare come il web, la rete, internet sta creando anche in questo caso dei mondi paralleli. lì salta fuori però una cosa interessante che io non sapevo perché sto imparando in questo caso. In realtà tutti coloro che viaggiano sulla rete sanno che stanno diventando sempre un esempio le communities. Le communities, pensateci. In un momento in cui facciamo fatica a trovare la nostra comunità, in un momento in cui è sempre complice trovare la comunità nel senso del mondo e la sua applicazione sociale, sul mondo parallelo della rete ci sono le communities. Le communities, di quelli che navigano sui divani di casa, le communities di coloro che scrivono gialli, le communities di coloro che mangiano sangue. Pensate a questa storia delle communities. La Ducati ha fatto una community. La communities vuol dire che tu entri nel sito della Ducati e partecipi e parli fra coloro che si sentono ducatisti. Secondo voi quanta gente c'è iscritta alla community della Ducati? 800.000. 800.000 persone si riconoscono nella community Ducati. Ancelero, che è un'azienda che fa sostanzialmente prodotti biologici, ha una comunità di 50.000 persone. Allora, questa storia mi ha colpito molto perché nel momento in cui tutti ci sentiamo che non capiamo più niente di quello che succede, non capiamo più niente della finanza, non capiamo più niente del mondo, non capiamo più niente dell'Iranco e dell'Iranco, nel momento in cui sembra che siamo sparsi e sparsi, dal basso c'è un grande bisogno di socialità. Da dove non ce l'immaginavamo neanche. Quelli che si aggregano sulla Cerenia, quelli che si aggregano sulla Ducati, quelli che si aggregano sull'autoteca. Ed una delle volte io domando a un'alcomiuto, ma cosa sono i caratteri fondanti di un'alcomiuto? Che cos'è che l'individuo è l'educatista? Forse che poi mi spiegano quella della Ducati che quella volta che hanno provato a usare la community Ducati per fare la pubblicità, questi hanno speso un'autoteca. Diceva che il Ducatista è uno che sa fare a giocare, che però accetta le regole, rispetta le regole e quindi riconosce la competenza degli altri. Poi ho fatto la terza domanda a quelli che si occupano di alceneri. Ma cos'è che caratterizza un alcenerista? Perché gli piacciono le cose originali di base, perché rispetta le regole, perché rispetta quell'altro. Io faccio magari adesso una domanda da lui. Cos'è che caratterizza la community dei coach server? Me l'ha appena spiegato per questo. Cioè i colori che vanno in giro per il mondo a casa di un altro sul suo divano, quindi fidandosi. perché ci sono delle regole scritte, perché hanno bisogno di conoscersi. Allora se noi mettiamo insieme tutte le community virtuali, salta fuori che c'è uno straordinario bisogno di community vera. E questo vale anche nel mondo dell'evoluzione. C'è questo enorme pallone che ha confuso tutti e ha tolto la fiducia l'uno nell'altro. C'è un enorme bisogno di riscoprire alcune cose fondanti. Che sono la fiducia l'uno nell'altro, l'essenza delle cose, il valore non della moneta, non quello che ci sta sotto. C'è un enorme bisogno di scoprire la solidità delle relazioni umane. Se questo non lo fai, l'economia diventa un gioco pericoloso. Se questo non lo fai, la geopolitica è un videogame. Se questo non lo fai, la politica è assolutamente un altro gioco pericoloso. Allora da tutto questo imparo questa cosa. Uno, bisogna tornare a giocare. Il giocare impida la capacità di divertirsi perché stare insieme con qualcun altro con cui condividi le regole ma anche il piacere di stare assieme. Bisogna riscoprire la voglia di stare assieme. Secondo, mentre scopriamo la voglia di stare assieme, bisogna domandarci anche perché, è quello che dici te. Ma l'essenza delle cose, dove finita? È soltanto uno spot pubblicitario? No, eh? Allora, questo vale anche per l'economia. Tutte le volte che l'economia ha perso il contatto con l'essenza delle cose, con quelle che una volta si chiamavano del nomisma. Il valore delle cose è il nomisma. Tutte le volte che perde il nomisma, le cose perdono valore e non hai più neanche il loro nome. Tutte le volte che la moneta perde il nomisma che ci sta sotto, diventa un gioco pericoloso. E quindi diventa un thriller. E prima o poi scopriamo quel che è assieme. Grazie.